L'incendio in cui ha perso la vita il piccolo Alessandro Mignogna è stato fortissimo, impressionante ed è stato causato da una scintilla che nel giro di pochissimi minuti ha bruciato la ciabatta che si trovava vicino ad un divano e alla quale era collegato un computer. È il procuratore capo Nicola D'Angelo a ricostruire quanto accaduto due notti fa nella villetta di Contrada Carcare, nella periferia di Campobasso. Lo fa nella conferenza stampa convocata con il comandante dei Vigili del Fuoco, Marcello Lombardini, e il capo della squadra mobile, Marco Graziano. Ai giornalisti mostra la foto del soggiorno dell'abitazione, diventato una trappola di fuoco che ha sprigionato un mix di gas tossici letali per il piccolo Alessandro. Le cause del decesso del bimbo saranno chiarite e approfondite dall'autopsia in programma al Cardarelli. Se l'incendio non si è trasformato in una strage, è stato grazie alla prontezza dei Vigili del Fuoco che hanno applicato sul volto del fratello di 12 anni e della mamma la maschera dell'ossigeno. Erano i sani, mi ha raccontato il procuratore D'Angelo, il ragazzino di 12 anni è stato trasferito al Santo Bono e più volte è stato sottoposto alla camera iperbarica. Quindi l'obiettivo di questa conferenza è sensibilizzare i cittadini sui pericoli che abbiamo in casa affinché la morte di questo bambino non sia inutile, scandisce il capo della procura di Campobasso che ha mostrato un video emblematico sulla velocità di propagazione delle fiamme in presenza di determinati materiali, oggetti di arredamento come tende e divani, prodotti di elettronica come pc e telefonini. Lasciare in carica il cellulare sul divano è un comportamento che dobbiamo evitare il consiglio del capo dei Vigili del Fuoco che ha suggerito di consultare la pagina del Ministero dell'Interno appositamente dedicata. Sulla drammatica vicenda la procura ha aperto un'indagine, per ora si procede a carico di ignoti ma non ci sono indagati, ha concluso D'Angelo.